buongiorno ragazze e bentrovate questo sarà un video last minute di uno shopping di beauty che vi voglio mostrare e condividere con voi allora ho acquistato questo rossetto della maybelline ne ho già un altro che sui toni del fucsia è un rossetto matt questo è il colore malva e molto belli questi rossetti durano parecchio l'unica cosa che vi consiglio perché provando l'altro che ho e prima di indossarlo di mettere un velo di burro cacao perché purtroppo essendo un rossetto che dura diciamo quasi tutta la giornata tende un po a seccare e fa quell'effetto un po bruttino sulle labbra però tutto sommato è un buon rossetto poi ho acquistato questo mousse un attimo che metto a fuoco ecco un eye shadow mousse ombretto della kiko è il numero 8 eccolo qui è un grigio bellissimo e non so se si vede molto glitterato era in promozione con i saldi da kiko l'ho pagato sulle 7 euro e 19 se non erro costava forse 10 euro prima e oltre a questo colore c'era anche un bel bronzo e un color oro molto bello solamente che ho voluto prendere questo grigio vedete vedete quanto e niente vi faccio rivedere il numero se in caso vi interessa questi si possono stendere o col pastrello del dito eventualmente se avete il pennellino adatto per gli ombretti in crema va benissimo anche il pennellino niente questi sono i miei ops i miei ultimi acquisti che ho voluto fare anche questo colore molto autunnale bellissimo grazie per la vostra amicizia e siete sempre benvenuti ai nuovi iscritti e un saluto a tutte le mie amiche che mi seguono